ben trovati siamo con la cultura e di nuovo con il nostro avvocato simone de fraia benvenuto benvenuto simone ciao a tutti grazie buonasera ciao davide simone oggi parliamo della di quella famosa battaglia che ha cambiato le sorti dovrebbe perlomeno aver cambiato le sorti il destino di arezzo allora senti più che dovrebbe secondo me non ha cambiato più di tanto è proprio questo lo scopo della nostra chiacchierata capire cosa non fu cosa non successe dopo questa battaglia che non fu un vero e proprio cala una vera e propria calata di sipario volevo parlare appunto del dopo costa non fu questo è il problema bene allora e quindi abbiamo come l'altra volta le nostre foto e quindi dimmi te anche quando io devo inserirle e quindi comincia il tuo interessantissimo racconto vai grazie allora il problema appunto è cosa non fu campaldino dopo la battaglia di campaldino e questo discrimine che la storiografia ottocentesca diciamo la letteratura possiamo così storica eh di fine ottocento e primi novecento che purtroppo mi tocca dire stenta ancora a morire e che ci vuol far passare appunto come la battaglia di campaldino come un grosso discrimine prima e dopo un po come la vendita di arezzo a firenze nel 1384 prima e dopo è innegabile che questo segnò campaldino la battaglia di campaldino la rotta di campaldino innegabile che segnò un punto di diciamo di divisione una grossa debacle per la città causò una serie di morti tra personaggi più illustri della città causò tutta una serie di scompensi a livello economico a livello militare per la città ma eh non è che eh si ebbe proprio questa frattura così come la storiografia ce la vuole in qualche modo vendere o ce l'ha spacciata fino adesso vediamo intanto che cosa successe l'indomani perché ormai la battaglia è è nota le modalità della battaglia sono note a tutti e sono conosciute di più l'indomani eh del famoso sabato di San Barnaba che poi è quello dell'undici giugno del mila duecentottantanove eh le truppe fiorentine da campaldino eh muovono verso Arezzo allora voi sapete che durante una battaglia non è che ci sono soltanto le la schiera A e la schiera B ma dietro eh ogni battaglia c'è un mondo un universo un indotto che si muove appunto con i contendenti quindi ci saranno stati tutti i serventi ci saranno stati le le salmerie cioè quelli che sono gli approvvigionamenti eh per procurare appunto da mangiare del tovagliamento ci saranno stati i fabbri ci saranno stati i gestori diciamo di tante cose non non da ultimo gestori a livello economico ci saranno state anche le prostitute per soddisfare i soldati ci sarà stato praticamente un mondo eh sconosciuto che stava dietro appunto alle alle schiere dei combattenti da un lato e dall'altra quindi tutto quanto l'esercito dei vincitori in questo caso si muove verso Arezzo all'indomani della della battaglia si accampa ad Arezzo il 24 intorno al 24 di giugno proprio per San Giovanni e intorno alla città eh alle mura della città viene corso appunto il palio di San Giovanni un po' per festeggiare ma sicuramente sono atti di dileggio atti di spregio nei confronti dei dei vinti e così come andremo a specificare ancora meglio era naturale spesso nel medioevo che eh attività di questo tipo ad esempio tagliare un albero importante della città così come fecero nel 1288 i senesi nei confronti degli aretini tagliarono l'antico albero di Olmo eh che dava nome appunto al al luogo al valico di Olmo abbiamo ancora tante altre eh tipologie di 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 atti di spregio fatti nei confronti degli aretini ma anche viceversa gli aretini verso Firenze quando nel 1305 entrarono a Firenze ruppero la porta di San Gallo preso il catenaccio lo portarono in Duomo ad Arezzo come segno di vittoria come trofeo e va bene quindi i fiorentini nel 1289 si accampano presso eh la città di Arezzo da quale parte si accampano da quella che era strategicamente più conveniente ovvero quella dalla parte di Fionta perché proprio perché lì la la cinta muraria ancora non era ben definita prego Davide ripartire con la prima diapositiva per favore per far vedere un po' lo schema della battaglia che si svolse qui vicino ad Arezzo proprio alle porte di Arezzo. Allora i nostri potenti mezzi. Presumo sia questa vero? Perfetto grandissimo. Vedete che eh la linea rossa indica il percorso delle mura duecentesche perché quelle tarlatesche nel 1289 ovviamente non potevano esserci che sono di un'epoca successiva e vediamo che all'interno della parte alta della città ci sono gli aretini che si devono difendere dalla dalla Masnalla, l'assedio eh dei fiorentini che ha posto il campo nella zona di Pionta vicino al vecchio Vescovado. E eh dicevo appunto si organizza in quest'anno era proprio perché andiamo con la seconda diapositiva eh da quella parte le mura non erano state ancora completate o meglio erano in qualche modo presenti no? Questa è quella quella miniatura. Oh è bella vediamo se ti posso. Il nostro tecnico ecco perfetto deve migliorare un po' comunque ce la può fare. Sì ce la posso fare ma io mi aggiro dietro la la miniatura questa che vedete appunto sono la è la città di Firenze ancora da una cronaca del Villani così eh come è stata realizzata la miniatura e vedete che in parte ci sono le mura di muratura di pietra in parte ci sono gli steccati. Ecco che allora ad Arezzo ancora eh gli steccati erano parte integrante delle mura dalla parte occidentale quindi dalla parte di Pionta è lì che i fiorentini tentano di eh fare breccia con le loro macchine. Di che cosa era dotato l'esercito fiorentino? Ce lo dice il Villani. Mi mandi la prossima per favore? Eh sì. Qual era? Dimmi aiutami perché no? Quello di prima l'avevo numerate. Eh l'hai numerata è fatto vero ma io questa? Questa può andar bene comunque. Ecco i fiorentini erano dotati soprattutto di dice il Villani di diffici. Cosa sono i diffici? Sono delle costruzioni degli edifici in legno come le torri appunto in legno eh di cui abbiamo fatto una ricostruzione ma che sono anche eh indicate nel nel cenotafio Tarlati. Vedete queste fortificazioni provvisorie in legno. Vediamo ancora la successiva diapositiva e anche di macchine per fare appunto il lancio di pietre tipo i mangani e i trabucchi che venivano in qualche modo assemblate velocemente perché sono macchine abbastanza semplici nel loro funzionamento. E con queste ci dice appunto il Villani che per dispetto e rimproccio del loro vescovo cioè dell'Ubertini che era rimasto soccombente a Campaldino i fiorentini manganavano cioè tiravano attraverso il mangano asini appunto agli spregio eh travestiti da vescovo cioè con la mitria in capo con il cappello vescovile in capo proprio per fare che cosa? Per fare un un dileggio per in qualche modo prendere in giro e questa dopo prendere in giro il vescovo che era appunto morto a Campaldino. Ma allo stesso tempo e qui restiamo forse in un clima di questi giorni questo lancio di questi animali morti che venivano lanciati in città attraverso questa macchina a contrappeso poteva essere anche un tentativo ma non in questo caso in altri casi dove venivano fatti in maniera più scientifica un tentativo di eh contaminare l'interno della città attraverso carogne e imputrefazione quindi un tentativo di guerra batteriologica ma in questo caso solamente per prendere in giro il vescovo anziano che era morto appunto a Campaldino. Si corre appunto il paglio si lanciano gli asini quindi e eh tutto questo da dove eh da dove viene fuori? Viene fuori da due passi importanti che sono stati riportati e studiati anche nel libro eccolo qua e quali sono? Una è una cronaca in terza rima trecentesca di Bartolomeo Sergorello che si parla di steccati e fossi dietro i quali gli aretini si in qualche modo tutelavano e eh un passo degli annali aretini dove si dice che dietro eh sostanzialmente degli steccati e dei valli, dei fossi, le donne e gli uomini anziani attuavano una resistenza, resistenza ai fiorentini e eh che cosa succede? Eh ci sono giorni difficili, giorni di eh contrasto tra le fazioni avverse e se mi puoi mandare quella diapositiva, quella con le fiamme che vedevamo poco fa, una notte, l'unico sistema che poteva essere fatto oltre che resistere e quindi in qualche modo donne e anziani e bambini, quelli che in altri punti vengono chiamati eh così militarmente le bocche inutili, in qualche modo dovevano resistere organizzano una sortita. Che cos'è una sortita? È un'uscita nascosto la notte come ci dice il villani il sette di luglio, sfruttando la luna piena e in qualche modo riescono a dare fuoco alle macchine di legno dei fiorentini che così prendono fuoco e i fiorentini verso la metà di luglio, intorno al venti di luglio, lasciano il campo con si dice con le pive nel sacco in qualche modo perché non erano riusciti a prendere la città di Arezzo. Ora accanto a tutto questo che cosa c'è? Questi sono i fatti storici, questo è un assedio in piena regola che è stato svolto perché i fiorentini volevano fare il blocco della città, farla morire di fame, di sete, ma in qualche modo la città attraverso questo stratagemma di questa sortita notturna è riuscita a rompere questa situazione di stasi, ma la letteratura di fine ottocento ha interpretato in qualche modo questi passi che prima vi ho citato, sia la cronaca di Serba Tormeo di Sergorello che immaginando la città come un vecchio anziano dice che era difeso estremamente dalle donne e dai vecchie attraverso degli steccati e dei fossi e da quest'altro passo degli annali aretini per cui sempre si sostiene appunto la difesa attraverso gli anziani. In realtà le donne e gli anziani avevano un ruolo attivo nell'assedio, avevano il ruolo di in qualche modo fare e attuare compiti minori sì, però ad esempio portare cura ai feriti, foraggiare di alimenti chi ne aveva bisogno, trasportare via cadaveri, ma soprattutto rifornire di proiettili, quindi palle da lancio oppure frecce oppure qualsiasi altro tipo di munizione, coloro che offrivano resistenza. Nell'Ottocento questo viene interpretato in una nuova corrente di sentire, anche se vogliamo di arretinità, non voglio dire arretinismo, non voglio dire campanilismo, tipico di questa fine corrente di fine Ottocento che ad esempio in architettura sfocia con la reinterpretazione del Medioevo come il New Gotico, il New Gotico oppure il restauro stilistico. Basta vedere Piazza Grande, tutte le torri sono sostanzialmente dei falsi di prima di Novecento con la soprelevazione delle merlature che un tempo avevano, ma non era arrivata in queste condizioni a fine Ottocento e negli anni Venti, quindi si costruisce quasi mitologicamente questa figura di questa donna eroina che insieme ai vecchi e ai bambini è rimasti, poiché si ritiene che i giovani siano tutti stranamente sterminati tutti a Campaldino, resiste sulle mura retine, ma ovviamente è più una figura di creazione romantica, di creazione filologica tipica appunto della corrente dell'Ottocento. Le cronache, le storie sono piene di donne guerriero, basta pensare a Marfisa, a Bradamante, a Chinzica. Chi era Chinzica? Santa Chinzica viene festeggiata a Pisa nel giugno in quanto si dice che abbia resistito agli assalti dei Saraceni. In realtà Chinzica è soltanto un quartiere di Pisa che fu preso di assalto dai Saraceni in un certo momento, eccetera. E si crea la leggenda, il mito di Ippolita degli Azzi, l'eroina forse mai esistita, denominata la popolana salvatrice di Arezzo. E quand'è che comincia questa situazione? Comincia nel 1811, o forse anche prima, ma io vi do i dati certi che sono riuscito a trovare, probabilmente anche prima. C'è un certo Gino Anastasio Angelucci che in una conferenza presso la Reale Accademia Petrarca rispolvera questo evento e rispolvera, forse crea, forse spolvera un po' troppo bene l'esistenza di questo personaggio, Ippolita. Già il nome ci richiama le donne guerrieri amazzoni degli Azzi. Azzi è una famiglia importante di Arezzo, ma non credo che sia mai esistita una Ippolita appartenente a questa famiglia che abbia combattuto nei pressi, intorno ai giorni di Campaldino. E praticamente a questo si succede una specie di febbre per questa Ippolita degli Azzi nel 1836, Oreste Brizzi scrive quella che è la novella storica, ora magari Davide mi manda anche la diapositiva, la novella storica incentrata appunto, vediamo, su Ippolita degli Azzi, dove si tutto quanto gira intorno a quei pochi versi che vi ho letto sia degli Annale Retini sia di Bartolomeo di Sergorello. Nel 1845 Francesco Guidi, che è un librettista, uno scrittore di musica, mette in scena anche un'opera al Teatro Petrarca, fondato appunto sulla leggendare roina di Ippolita degli Azzi. E Guido Cherici e il Tavanti negli anni venti addirittura mettono su e allestiscono una grande rappresentazione della battaglia di Campaldino sul Colle di San Donato presso la fortezza. Ecco, tutto questo poi in realtà fondato unicamente su un vero unico punto di rotazione, l'unico perno. Quei tre versi che vi ho letto prima, è un grosso sentimento di appartenenza ad un passato che non c'è più, è un momento di riscossa, per cui oggi abbiamo anche una via intitolata qui dietro al tribunale, intitolata forse a un personaggio inesistente, ma sicuramente intitolata a un sentimento forte di arretinità, che è bene che continui a durare nonostante tutto. Credo di aver finito, Davide. Bene, sempre molto interessante, molto puntuale. Ti volevo chiedere una cosa, ma della battaglia gli eserciti erano mercenari o esisteva un esercito anche del comune? Allora, siamo nel 1289, abbiamo il vescovo che rappresenta sostanzialmente la parte forte della città, rappresenta la città, è il vescovo Guglielmino Bertini, che in quel periodo, come dice Villani, da Guelfo aveva mutato partito ed era diventato capo del ghibellinismo nella zona di Arezzo, per Arezzo. Quindi era lui che con i suoi consorti, nel senso di altri ghibellini, allo stesso fedeli, quale Conte Montefeltro, Guido De Pazzi, tante altre personalità importanti, si erano uniti per combattere le schiere dei nemici non solo fiorentini, ma dei fiorentini o filo-guelfi che essi siano stati. Quindi gli eserciti potevano essere anche compositi dei vari signori, ma anche dei vari signorotti che rispondevano a questi signori, sempre in linea con lo stesso partito ghibellino, del ghibellinismo. Bene, allora niente, io direi che abbiamo dato il nostro grande contributo perché credo che la tua conoscenza, il tuo sapere, la tua capacità di esporre sono uniche nel nostro contesto e credo anche in un contesto molto ampio. Comunque non hai bisogno dei miei complimenti perché sei... Mi fa piacere portare queste quattro, diciamo, chiacchiere per anche stemperare un po' il clima che c'è in giro, per fare un po' di storie, anche se non è in maniera scientifica approfondita, ma ripeto, chi volesse magari saperne di più o consultare meglio certi aspetti può fare riferimento al volume che prima avevi fatto vedere, appunto questo qua, che ripercorre in maniera più attenta, con note, con precisione, le fasi che vi ho oggi raccontato, insomma, e tante altre. Certo, no, ora, quindi direi che la storia siamo noi, è fondamentale conoscerla dalla storia perché poi anche da quello che hai detto oggi, alla fine c'è sempre, ritorna sempre tutto, no? Quindi pensare a questo momento, l'abbiamo detto anche l'altra volta, c'è la peste nel medioevo, c'è la peste nel 600, oggi c'è il coronavirus, ma cambia poco, alla fine l'uomo... Non è proprio la stessa cosa, però le modalità, come abbiamo visto... Non è la stessa cosa, ma da un punto di vista sicuramente sanitario, eccetera, però effettivamente io credo che anche, leggendo, insomma, anche in quei momenti quando arrivava la peste si chiudevano tutti in casa, rimanevano lì finché non passava, oppure evitavano da andare nei paesi dove, nei comuni dove sapevano che c'era... quindi insomma, l'uomo è sempre quello e quindi un invito veramente anche a chi ci ascolta, soprattutto ai giovani, di appassionarsi, di conoscere la storia perché insegna sicuramente a affrontare meglio il presente e il futuro. Guarda, su queste parole, che sono parole che vengono da lontano, ovviamente proprio oggi stavo preparando un lavoro, appunto, forse per il quotidiano della nazione, non lo so, che prende in esame alcune parole del Villani, che appunto proprio dopo la peste del 1348 tutti si aspettavano un mondo diverso, un mondo migliore, visto la lezione, tra virgolette, che il buon Dio aveva dato loro, inizia il capitolo però con amarezza dicendo come gli uomini furono peggio di prima. Speriamo che non sia così questa volta. Speriamo perché intanto affrontiamola e speriamo di uscirne, poi speriamo di non diventare peggio di prima. Va bene, comunque diamo appuntamento alla prossima approfondimento che avviseremo quindi tramite Instagram, tramite tutti i nostri canali, quando sarà, quindi appena sei pronto, te sai che noi siamo qui a tua disposizione per informare i nostri accoltatori. Grazie signora Lefalia, grazie e arrivederci a tutti e alla prossima occasione. Grazie.